musica musica ma non fai a tutti e per favore ma non ho più preciso ma non lo vieni plus a tutti ma non vieni più a tutti chiamato i mai e ho ora se sei l'Africa e dei e e un po' po' e l'Africa e no quello che mi piace se non vogliono svegliamo un'impecie noi facciamo una bocca la fresca più da più proprio come manca di loro di loro con le loro con le loro con i monti la loro Eeeh Oye mi che? Nassutu Esa koreana petti Poi mamma mardi Mi chassi Mi chassi Poi perché comprate me te? Mi chassi Bacongorè O alonou? O alonou? Pona koreana pino mokò Bacongorè a koreana petti Koreana a petti Bacongorè a koreana petti L'opinan bibayla a bilo koli Bawinan tabi loko et tazini Poni koko mara boi na bounabou chaynez Mwana et tazini Tata yo kiko le la bino Atindeli bino Maman Samira Dengye osala kane et tazini O koli a lokola moutuazana mon beli Lokola moutuazana ngaba Merci mwb Ieeh Waww Iste mwbous Bana et tazini Koli a bio E komi lo lenge na bino Bona kozwa Mbisi a koka woka Tope ma foute en bila Che mama Samira Atta o Zali na posa Yambinzo Ndakala Ma Yebo Safu E Zali Pebito yo Che mama Samira Manson ma Zali E lo komo kote yo ko luko komo nati Nande nga va bete Bona kozwa bino kwa detay Yoka numero Numero 938 Avenu Maurice Na New York Adresse Yya entrepo 12 40 Avenir Andol Dans les banques Tala Yoko Vandakoteka Mbisi a koka woka Mbisi a koka woka Mungusu ma foute en bila Mbisi a koka woka Mbisi a koka woka Mbisi a koka woka Mbisi a koka woka Jemtze Nd. Taa Jn. Taa 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 così, è triste. Oggi, io ho ricevo il pastore Guili per la seconda volta. La tua moca. Generalmente, è samedi, ma non poteva attendere il samedi. Falle le fare oggi. Qui era per noi, Kadiumbo? Qu'est-ce che il rappresentava per noi? Comment l'a connu? E oggi, il n'est più là. La mia ragione di questa morte può evitare. Ma ciò che è detto, è che il Covid è. Perché il Covid è stato trattato. Il parla di l'empoisonnement. Il va all'inno di tutti i sensi. E ci sono. Passeo Guilet, buoni. Ça va très bene, per la Christiane. O Lali-Té? Oui, in tutto caso, nel Lali-Té, c'è stato di 4 ore di mattina. Il si è stato di 4 ore di mattina. Il si è stato di 4 ore di mattina. Il si è stato di 4 ore di mattina. E poi... io apprendi la nuova a 3 ore io ti chiede a un sacco e con Christian Philippe, d'abord e con Christian io ti chiede a un sacco io ti chiede a un sacco poi ci chiede a un sacco 3 ore noi ci chiede a un sacco per noi ci chiede a un sacco e ci chiede a un sacco ma c'è ma...ma che quando si chiede a un sacco perché c'è un sacco ma c'è un sacco ma c'è un sacco e allora io tolgo in una conversazione a un sacco comment c'è passato ma c'è fai od께서 a un sacco le chien le chien il vi è un sacco il chiudo e il chiudo il vi è un sacco quindi ci sono i due giorni di più, e quando gli uccionano, la guerra è cominciata con tutto il mondo di posizione. Quindi, non lo so come, non lo so come, perché ci sono i due giorni, ma loro si sono che ci sono i due giorni, non lo so come è il mondo, e se è successo, e ma attenzione, più lì, o come si è fatto, non lo so come, non lo so come è il mondo. e così e così, la causa mia non c'è il ne ha mai fatto. Per quanto 98% di noi sono stati di bambini, c'è una cosa che si chiama, ma realtà che ciò che ha fatto, ma maîtriserà il mio malamio per rapporto a il mio carico, allora il saluto molto tranquilli, ci sono stati di un'occhiamento. E due ultimamente, noi siamo tutti i bambini, in una video, ci sono qualcuno di l'ensemble, che ci sono giornalisti, c'è la musica, le loro comune le tina, e le loro bando sono coraggio, sono menacere la nation, sono menacere la repubblica, par rapporto al candidato che c'è, ci sono le loro bambate, le loro video sono sicuramente e trozièmement, il loro potuto confermere che ci sono le loro bambate, ci sono le loro liste, le loro bambate, ci sono le loro bambate, ci sono le loro bambate, ci sono le loro bambate, che ci sono i bambi, il Pickle �, e connetere ci sono le loro bambate di un anno che ci si è una bambina, ci sono i bamb Där ma la letra di Baya Otsikalabiso perché le viello di un besele non è robato ma te ha va a far già vincere la visita allora non ne sapeva qui sarà il prossimo per Christian Philippe Pastel Gili non è sa lingua ma ma sa tombe si bene il y a due giorni passi il y a 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 est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on le dise oui maquillè est-ce qu'on était obligé d'en arriver là il y en a il y a où y'a poison et où tu perché sono la Covid, poverà il nostro canale, e io parla con la fammessa di l'Hokadiyombo ciò chiede il la Covid-19 la side zooming la porcia la placita Voilà, voilà. Exact. e lo, na ye vreman na platone, na yu ponan mekan, na yu eksplike badone bakonza moka ba yokanyangou. Eza ba realtite o yu e ye lobby etan we komi lobby etan boni nami noko yabato, naba pochi yabato naba vi yabato benzo na bagonza le lo basila nasco on na bisson. So kye za parapor yabado ne o yu e bimi le lo likambo yako. Veruyye bas poste o yza yamakas nakat Ci c'avano molto falando dessa simila, non c'è quello che non aveva, perché va bene? Voi, il che quando si che? Voi l'unica nella parlamazione, La Barbara è la roueพuga, non peace? Il ris维no il per ris antibasto usc buena? e lino si koyo passe e komi ko sala batu e komi kanda nakati ametou e batu natu ne mena ta kouloutou ajo l'andanga eske se lino papa kagyombo eske se lino de konanda christian bosembe eske lino zapa se gili ye koulouto olivier tango pastel makoloko tambo la ayebisa kaye a tangela kaye kombo a ma parana e patou na kaye eo pe tangela nga ya yo eske se lino eske se lino de kadiombo a l'epoque eske papa kissambo se mbetonga no tue noel tiani tue noel tiani makoloko tambo la kominikataire ya peperde ajo landa bisso puske aza nabomoy a tanga kongbo a ma parana e pa yobisayal obi tanga yango voilà papa christian natu ni koulouti fransi kalombo le lobo jobi misaba grifle belè ma kambo belè tambo le kan la télévision obetable je suis kabilis le lobo je suis koufi et on a problémeté ce qui peut m'habiller le lobo interpeller acharnement liberté d'expression kabila koutou bien non papa christian le lobo interpeller acharnement la monopole la comunità la repubblica del Congo perdono il giugno la mission il procès il procès il l'opinale la giornata il caso il caso il caso il caso il caso i i un 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 2 un un il nome della nazione non, 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 non della continuità per perdere ma libretta derrière ce qu'il faut que la logica ora qui peuvent être derrière l'ioi academi ma l'abbia papa christian bossembe d'un député élu du peuple à zoro batte moto conti salua wana napalé du peuple t'occoli alli mais non c'est une menace c'est une menace parlement et au katana moukou lwana et au souka moukou lwana le nom de qui on n'y a moutou mais n'a n'a aucun mouan papa christian bossembe n'a vendi na plateau n'ayo so qui l'élò balobi il n'y a pas un problème sur la congolite il n'y a pas un problème sur la congolite l'ikamwa congolite la tatiouane zate moi je comprends pas et l'okopé yassika l'élò batu yassoma zolanda bisona monde l'ikamwa sike zate papa christian n'an yatombo kate n'atatambo ko yonakandida tiria azere suruberwa na majitati suprême n'ani a tombo kate na poste ya general ya la police ya bisengimana n'ani a tombo kate n'ani a lo ba te na dje ya ufida a utotik abiso o yabete lisholana tenani n'ani a lo ba ngote papa christian a tombo kate na kata république démocratique du congo tu sois chef d'état majeur wande l'élò ministre de la défense narwanda james kabaribé conseil spécial voilà et puisque ma congolais ba se rappeler na tiwiri et salamaka na vile province de kinshasa dimanche de août 98 awa et salama awa papa christian tovanda awa mousa lobby na yebisi armé rwandais ba se retirer subitement j'ai été surpris de voir mon ministre des affaires étrangères en train de plier ses valises quoi au nom je rentre chez moi donc je suis maintenant en sécurité propose que notre armée s'est retiré mais non ce n'est pas votre armée c'est l'armée rwandais ah et l'armée rwandais n'ozozo n'a yabini n'ozali et enfin wana koutou ministre a fait l'étranger toi qui n'est plus le tina ministre d'état de glace à s'bouguera batubari baraté moutou azala qui sensé yako remplacer mouzé de glace à s'bouguera bakenda et je trouve moi et lélo quand tu vas on a dit qu'est-ce que l'on est engagé ou léal engagement papa christian bosembe a discuté avec le docteur mais léal lebi dans léki to longo la katoumri to longo la fachi toujours jusqu'au lieu avec l'application 50 ans après petit christian philippe a commandé ton père nait un assassin après ma s'olon nait un mille moussou c'est quoi qui est on est pas moi je trouve mal lélo mais léano qui a quand même expliqué le monde Non, 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 non ella to come insieme rule divino ali una giornaliste entraranno qui sta primero lift importanti ci da ilqzn shorter notions india un chino ha lir congo congolais non 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 è .... la del visimento i giornalisti osi a come chi mi chino la porta sinistro si 낫sto, o cosa noto i negli ti è proprio chissano anche se arriva un piccolo di Zippo di Kondaye il loro quanto non il delle bacine che un chino ha congolese ma allora tutti che non c'è tutto il fatto che non c'è tutto il fatto il fatto il fatto che non c'è ma non c'è il fatto che non c'è l'euro ma ma c'è l'euro congolese ma discriminazione ma non c'è l'euro la maire maire da ybc jamari kassaba moi je suis de père et è un congolais è un congolais è un congolais io sono dei pelli e dei miei io sono dei pelli e dei miei ma lui c'est un congolais e poi è più lungo e poi è più lungo non ci sono non ci sono non ci sono non ci sono politiche politiche ma la conviction ma 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 Bellavamo suci nello 저는 nothing... La durategory del V young meniamo in Kabila! Lui nongruppa scop temos ilja loro quassessi Kabila. Ma zdettadoc bella quella che ha fatto leader nella realtà di Malibanda. Volevo impatto che il bisogno że ci sono le leader del Vaman της Maggi critics ha a&onga терри dort nel Congo. iniziamo io vorrei che io parla con i mbara in privato non 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 quindi non 20 30 Non, 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 non. 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 Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Ma perché lo voglio che non abisame il mio cibo di riduzzi? Ma no voglio non abbia sonoっていう. L'église vive al minuto di village. Joa il pape François Lobiyango. Eglise Zazanapona è sempre. Di palco del我們, mais oggi non è più il caso di Cardinal Lambongo. Tu pensi che le Cardinal Lambongo ava un partiel? ma bien-sirne papa christian ma partia là va oui canto canto te azzanna canero yazali non canto quietana schosské koto yo quietana schossoni koto ma non papa christian batu nions soba yebi batu nions soba yebi e poi leon la jo kammo motema onyo efendi batu e poi ce qui est bizarre ma kambo unyo so papa christian lo bakango pourquoi leon batu maari e dèpe sa dirige mboko yo te perché? non ci si chi c'è il prossimo ci si si è il nostro oh d'accord non ci si si è il nostro che si è il nostro in un'unico che si è il nostro i del pesco ma mia il nostro e il nostro che non ci si è il nostro l'émission a contredi l'euro macabro e zone carabocca ma mia l'euro che faccia ebbe aveva un maîtriso ebbe che faccia ebbe aveva l'euro a paraphrase e molto buono in canadà l'euro bia fatti sono adoro l'euro qua uira l'euro gaffe gara è detto che uira a fatto in mambo ma figa è io comprendo l'euro che faccia l'euro bianco bianco biettese e rubi magacca l'euro bia fatti c'è quelqu'un che ne comprendo rien l'euro salate l'euro bianco bianco ilaumuzà l'euro c'è ilabakona misio l'euro c'è qui va ma cambo n'yoso l'euro c'è c'è mahdono la cambo ma mi il mio frere il mio frere Non, 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 non. Non, 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 non perché aveva il potere a l'impérium l'impérium non è politico ma non non papa la miau la miau la miau la miau la miau Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Oui. Non, non. Non, non. Non, 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 non. Oui. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. guider la moto ne batto basa beaucoup plus proteger basa va numero ya bakambi nabba omba bimba omba bimba omba bimba omba mais bon parfois rien danger ya no e telemi on ne sait pas qui sera maintenant le prochain après le vieux cas diombo tu e duweyoko ma lelote tu e duweyoko ma lobi nanisambite tu e bite maintenant oye mio soba zolanda bisso pensez na bango zanini nan ba kouminikater po e beno ba zawana papa christian conseller diz ba tala rabango te lelo nan kobe tapata tolo soye ba tche mission ou ba tche apasek gili ba o tala yete lelo zakombo na mokili lelo zakombo merci donc ba tounsou ba vanda ka soki a mounye mission na yo a jui kalpen na yatche pembè na jui stylo a jo kouma babi loko yo ba me motowana aza wate koulutou nana janlui timbalanga aza na france alobarango alobarango a biniki oza bibliothèque nan mitalina y bibliothèque me koulutou nana jo kouma livre pour la nation congolaise majo l'obanine ke non aye ko laka minge pananga nana jo kamoa nana jo kamoa men lelo yu bato yu soba za tout autour a mokonzi voilà koukoumou neskana robaka e benne ba zanabaye bi bangote conseller agombe men kose tu fes pour la nation men lelo kouma christian boussembe zanase na fotokopi na yo et si le pire arrive ah ben c'est compliqué tout ça on est en train de réfléchir tout le monde on a montagobe ta lisholote montagobe ngate montagotou nate men soki ba moussouba sombi bango lishoumoufle la catézate men ba olotoza nabango bojo salanini na ba oya bino oya basa 100% matirel pafali 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 se l'avenir non dirà non mais le premier là c'est vrai aussi le premier vacances yamoura la paix qu'est ce qui vous coûte si vous trouvez quelqu'un qui est dans votre ligne sono un po' di riparare rapidamente poi poi si vengono la prison su e poi vengono perché poi si ripetite quando si raffati allora si raffati la seconda ma quando la Deuxième Repubblica il comunicatore è il film ci sono un po' e bella il ci si è un po' e il ci si è un po' e il ci si è un po' e il lo è il sindica il lo è un po' e il lo è un po' e ma c'est bon la salate voilà c'est quand même triste en même temps c'est quand même triste on va entendre aussi c'est monsieur Anabiso mais Gilit je peux te rassurer que le temps bo Kadiyombo il faut dire aussi que le chef de l'Etat s'en est véritablement occupé parce que Kadiyombo t'en as eu le problème il y en a qui est malinement con dans l'hôpital Amunene et selon l'odio Naokiuwala c'est prise en charge de l'hôpital Amunene très en retard c'est ça aussi le problème après maison civile à chef de l'Etat et Zunagambo en charge c'était trop tard trop tard le problème tant qu'on a un petit signeau il y a un mal au miguité veut me communiquer au départ veut me communiquer qu'est ce qu'on peut faire à quel moment on peut agir il y a des moments où on a réussi et bien mais déjà il y en a des guillet qui nous voit où j'ai vu il y a des vertiges voici mais j'ai jamais vu mon Non, 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 non non bon gogo con sa toh wana a zo conté te abongena trovate non l'on ame balè a zo un bocconso jate donna betana n'oubatuana bontotro benda d'herba nangò atta yana maiele abido binobo aloko a baji basi babendi 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 maio anna kati e loco a su eticali pamba le babbo a Sì, non, 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 non. ed è presente vi è stato un comunicatore si io sono un journalista se qualcuno vuole so di immagine l'intensità si sa compagnie non lo spiegazione ma domanda non la domanda se volume v advancing ma domanda est-ce questa ti rende triste un momento? non non triste è infezino non ci sono le suello. Non ho visto Papetien in un quattro anni dell'humanità Si, ma gente va bene Si ma gente va bene Non, non ma gente va bene Ma gente è papetien, ma gente va bene Ma gente è Paul Capita Il è niente Le vieux Capita si va bene Ma gente va bene Ma gente va bene Il è stato fatto solo Lì molto risponda E' stato fatto E' stato fatto La megaphone La mia gente va bene alo ande place e pesa inga go ya politik ya kolanda karizme ya motowano ande lanze la na yi na yi siko yu ku soutenir mwana, pourquoi? puisque papa christian moutako linga jamen christian philippe san linga yu, ou moutako linga jamen obonga lingi mwana yote, se pratikman impossible leloto yu kakango, ou yu kamoutalo babi nga yi naza froui apapetien, men a lingi moje natai nga yit no ils ont la sens mais ,euskore avan, avan, avan taon mo prerakabila orai, orai non non nga nabanna bi sua tozo bunda bunda nabisa le loo ou seko kdA nOu sala nneu misho ni nn ba chuta ba wa al andanga abo yu vskababii, non mo towa nii ba na3 kake ANA au suuk A la banzera yo a suki mo toa nari ba ki oi ba na yu misho nbi misao yu nsao nabi yu adalah vidou yu ,-y Ma è questa la nostra catione. Non, non, non c'è un matizia. S'ilusio è un matizia. Ma è un matizia con il rapporto a par rapport. Ma è il nastro che s'imprime l'immagine. Ma è il massaco di ma chrétien katholico a perdere il combattire. Il scemo non è il 16 février, c'était il combattere. ma c'est la mia ciotat ma ciotat serva serva il 16 februari 92 ah d'accord serva il mio ciotat 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 la question a me repose un desordre o aze ma niva a buo qui a ngop na ki na na mouvene da na foyer petite serena nasa nasi ma camera a ebi ma cammina o lopapuiske kouana bango schkobiso schkotojo bimisa moutou vermo venda na sosa a le neve takabiso par derriere oh ma niva il va di ba la soda pa soda co papa ma nora il va di ba la chef a la securité te ravi la securité ce qui nani ce qui nani est terminator ma niki na ordo na mouna ba simba maser boye ba obeta yfimbo maser a oubina na soutane a oule la a oule la mais le lo vous avez un président ouyo a ou s'est retrouvé nabino facilement na ou le mieux saison obama rien n'est pas qu'a bi la biocotri la ma ma paroisse hein na nobi treizième rire rossi chima na na treizième ria n'est pas qu'il y en a au bah j'en sainte m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit la profanation des lieux de culte voilà m'a dit 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 Alla scelta Siam Non... non la moto cinque battagli sa rocca basse la visione c'est déjà je crois ils ont pris des actions importants alors merci beaucoup bastionni non si on est ensemble on le porte mais ce qu'il faut retenir qu'est ce que tu retiens de lui non en tout cas n'a perdu la bibliothèque n'a perdu donc il était riche la langue papa christiane à perdre d'un amour l'occasion à l'obc de l'obc de l'obc de l'obc à l'île de l'occasion mesdames et messieurs merci beaucoup nous continuons à penser à cela je crois que la guille est dans un programme on va s'organiser pour aller le rencontrer aller rencontrer sa femme mais battre ou quoi on va éviter parce que vous n'avez ni tonnerre dans la terre la mine de l'aïdé animité les gens qui viennent pour notre talent en tout cas il faut vraiment beaucoup de prudence pour l'amour en bourse que nous demandons plus une parmi nous c'est plutôt de prier pour nous parce qu'il n'y a aucune prudence de grosses à la minute où l'équipe après dans son souci parce qu'il n'y avait tellement souvent de critiques info pour les incouvrir haïti babari ok c'est une c'est difficile pour nous de rentrer dans la tête des gens qui ont découragé mon honte il y en a l'état et foiement ceux qui ont eu qui comme moi à bout aux arcs ou tanga mal à l'is de mouroboïe malignez mouroboïe et bien le nom du du présumé criminel et ali interpeller des gens pareil interpeller le mot tout maman ma question à la sinon on est comme que chacun peut tout le monde peut se réveiller matin il menace les gens de le tuer et avant tranquille alors c'est compliqué vous attendez croire quand vous t'en avez le balai comme un boucadier alors qu'il fait qu'il menace toute une république il peut tuer les gens vous les laissez je vois que je trouve que tout à l'ombre amoureux de près et on va régler la question merci beaucoup en tout cas là c'est papa christian mesdames et messieurs on se retrouve très prochainement qui est la porte qui est ton esprit et que dieu bénisse les amis vous êtes particulier vous êtes patron d'une pme pmi voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international vous avez des colis à expédié en afrique colis booking qui travaillent en partenariat avec la poste est là pour répondre à vos besoins et l'option de commandes c'est généraliser vous pouvez payer par virement bancaire vous pouvez payer par paypal colis booking s'occupe de venir récupérer ses colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos de destinataires avec son personnel hautement qualifié global service nous propose des services de qualité à un temps record nous assurons les transports des conteneurs les engins des chantiers et tracteurs les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en république démocratique du congo dans le domaine immobilier global service vous facilite le processus d'achat immobilier aux états à kinshasa en afrique du sud et même en chine global service vous propose des services de qualité à un temps récord amener nouveau projet nous sommes la solution amener nouveau projet d'achat immobilier aux états unis dans le fort pour l'indépendance amener nouveau projet d'achat immobilier aux états unis dans le champ-énier format de batterie ainsi steam et typically dans le champ-énier deaksi میar de Net-à-Midi 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 Grazie a tutti.